Ciao ragazzi e ben ritrovati anche in questo sabato in un nuovo appuntamento di Q&A Saturday Andiamo a scoprire la domanda di questo video dopo la sigla Allora ragazzi la domanda di oggi è di Andrea De Simone che mi chiede Andrea secondo te la scelta di Apple di implementare il Race to Wake solo su 6S ed SE è più una scelta tecnica o è puro marketing? Non penso che il coprocessore M8 di iPhone 6 sia così differente o più energivoro dell'M9 Allora per chi non sapesse cos'è il Race to Wake, il Race to Wake è questo Cioè una funzionalità nuova di iOS 10 che consente di accendere lo schermo di iPhone semplicemente sollevandoli in questo modo Un qualcosa di molto simile alla stessa funzione che troviamo su Apple Watch Quindi questa è la funzione e come abbiamo già detto nei video specifici realizzati per iOS 10 È una funzionalità che è limitata su iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus e ovviamente modelli che seguiranno Quindi iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7 Pro, iPhone 8, iPhone 19, iPhone 24 Quindi è una scelta né tecnica né di puro marketing ma di entrambe le cose La scelta tecnica deriva dal fatto che il coprocessore M9 è comunque più energy efficient rispetto all'M8 Quindi questo è un dato di fatto Considerato che l'M9 già supporta i Siri Quindi consente di fare questo ed è a un ascolto always on per quanto riguarda Siri Se a questo aggiungiamo anche il discorso del Race to Wake che anche esso è always on Ovviamente c'è bisogno di un coprocessore che sia più energy efficient e lo è l'M9, l'M8 lo è di meno Di sicuro Apple poteva farlo comunque anche sui precedenti dispositivi Non è un qualcosa che richiedeva per forza un hardware migliore Però per garantire comunque un'autonomia di batteria la migliore che si può ottenere al momento Ovviamente hanno preferito implementarlo solo sui dispositivi che possono farlo senza gravi rinunce lato autonomia Quindi siccome l'autonomia interessa a tutti voglio dire non è una scelta forse così negativa Quella di non portare questa funzione su iPhone 6 e precedenti Mentre per quanto riguarda la scelta di marketing ovviamente c'è anche quella Perché Apple ha necessità come ogni azienda di vendere i nuovi prodotti Dubito però che una funzionalità così banale possa spingere le persone che hanno oggi un iPhone 6 Ad acquistare un domani un iPhone 7 o già oggi un iPhone SE o un iPhone 6S Ne dubito altamente insomma Quindi c'è sicuramente del marketing ma c'è anche un qualcosa di tecnico che ha previsto Insomma per cui Apple aveva previsto l'arrivo di questa funzione solo su questi dispositivi Considerate che su iPad ad esempio non c'è e gli ultimi iPad hanno comunque il coprocessore di movimento Quindi può essere una decisione dovuta in parte proprio ad esempio su iPad è inutile Perché molti usano la smart cover, molti usano la smart keyboard Quindi lo schermo già si accende quando apriamo la cover Quindi ci sono scelte di marketing, scelte semplicemente che sono scelte Non la portano su iPad, non la portano sui precedenti Per scelta perché magari hanno valutato che non serve E ci sono scelte di marketing ovviamente Ma in questo caso non credo che sia una di quelle funzioni Che possa convincere le persone ad acquistare un nuovo modello Semplicemente perché si accende quando solleviamo lo schermo Lo so che è una funzione molto utile, molto comoda Però è andata così Probabilmente qualche tweak si idea arriverà con il prossimo jailbreak di iOS 10 Ma anche prima e consentirà di attivare questa funzionalità anche sui precedenti dispositivi Bene ragazzi spero vi sia piaciuto questo Q&A Saturday Noi ci risentiamo domani col Q&A Sunday completo E la settimana prossima torno a Q&A Saturday Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com Ciao a tutti